Io l'anno scorso qualcuno a un certo punto quando il Real Madrid era a 20 punti al Barcellona dissi che quest'anno la favorita della Champions era Real Madrid sarebbe stata Real Madrid poi ho avuto fortuna sfortuna perché l'abbiamo crociata noi e non siamo riusciti a batterla diciamo fortuna che hanno vinto loro quest'anno la candidata a vincere la Champions è Barcellona perché basta vedere le partite e non guardarle è semplice la candidata numero uno noi siamo tra le prime quattro candidate